allora un attimo solo perché mi sta dando sempre che sta installando l'ishader per ottimizzare la prestazione di gioco allora allora ti faccio anche vedere per essere sicuro che sia quello giusto dovrebbe essere questo qui in alto a destra no nella schermata di gioco vado su battlenet lo legge o te l'ho detto ci leggo ci leggo non sono ciato per ora non si sa mai ma io ma io ti vedo se non parti scusa se ne fiori hashtag 21 28 8 ma chi è allora no scusa provo un attimo a mandarti un messaggio su battlenet è arrivato il messaggio e aprilo un attimo aspetta te fermo ecco vedi ecco the rock ok ok ho accettato vai allora e che devo fare qui perché non so veramente colore e ci sono un amico in gioco entra si vabbè si va avanti va avanti oh un attimo ok mo vai su domino la cima a destra in alto a destra lì no sotto 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 1 di 20 allora più già lì clicca destro partecipa alla partita c'è vero il gruppo aperto eccolo tommy shabbello però usiamo la chat di discord eh certo chat di locale no vai come sei pronto me lo dici ti sei sentito il gioco sono pronto io ovviamente le armi te non ce l'hai vero no va bene allora aspetta aspetta modifica equipaggiamento no c'è tutto all'uno lascia stare va bene vai start all'uno aspetta aspetta no no torna alle armi armi ok equipaggiamento tanto parti con uno parti equipaggiamento ok equipaggiamento uno fai ok pistoletta va beh può andare bene esci un attimo esci ben dietro va mia specialità ok metti artificiario ok poi inflessibile metti la seconda metti tempra ok che sarebbe dove te lo spiego metti il coinventore da battaglia ok tempra praticamente visto te quando quando giochi a wars sulla tua vita c'hai tipo tre striscini blu che sarebbe tipo una sorta di armatura ok che dovrebbero essere circa 50 50 50 con tempra te le mette 2 da 75 quindi c'è un po' più di corazza teoricamente va bene ricognitore da battaglia se se tutta la squadra ce l'ha quando spari i nemici li vedi praticamente si evidenziano per più tempo dura di più dura praticamente se te spari uno però si nasconde lo vedi sul muro lo aspetti quando riesce è tipo una sorta di hacker legalizzato tutto lì però che dici c'è uno qui su twitch che mi chiede se può unirsi a noi che dici fallo vini fallo vini fallo vini va bene vai ok vieni dammi il tuo coso no no dammi il tuo coso battle net che ti aggiungo bravo aggiungi con te allora facciamo una cosa ma te baba sei da pc playstation o xbox che noi siamo da pc eh non cambia niente vabbè glielo dico oh almeno siamo su discord ah bravo ma si può anche disattipare discord e parlare qui tanto si sente lo stesso vai è da pc perfetto ok allora ti aggiungo subito che fa? un attimo ok esci ti insegna allora sono un attimo sono su battle net per aggiungere non occorre ok non occorre esci dal gioco esci da questo schermato allora vai indietro indietro 2 di 20 e vedi con la Q richieste di amicizia guarda un po' ok esci come fatti? aggiungi amici ecco la vocina accanto vai e devi mettere il suo nome facciamo ribirt o caldera e guarda io non lo so mi sto adeguando a un mio amico siete lo streamer 15 di te io ti rimango dietro allora un attimo come faccio io ti ho mandato la richiesta quindi dimmi te se ti è arrivata che nel caso ti aggiungo al party ora va anche qua t'accanto dovrebbe essere giusto eccolo invito in un party è giusto è giusto si è fatta bene eccolo eccolo qui allora c'è il discord su li posso anche da discord vabbè è uguale come ti pare non si discord anche qui su la scelta vocale di code ma fa schifo no gli do discord aspetta propria e ma non dirò in chat privata qui però eh come si fa però spieghi e sotto e sotto premi invio premi invio un attimo un attimo ok party giusto lo scrivi lì vai vai ti ho mandato il link discord se vuoi unisciti a noi qui dovresti essere anche bravino speriamo è pari del mio livello quindi presumo sia bravino ma magari è che è un fenomeno speriamo oddio io non so scarso però non sono neanche un fenomeno te l'ho mandato nella chat privata qui del gioco bene se streami code la gente ti segue tanto è quello erano fragili più guardati allora aspetta mettiamo così metti la chat del gioco adesso si fa prima aspetta 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 glielo mando in privato su twitch bella baba attiva la chat vocale del gioco no ma che sta buono ti dovrebbe no non lo mando in live perché poi non voglio un sacco di gente te l'ho mandato se guardi su twitch dovrebbe esserti arrivato anzi dimmi come cavolo faccio a disattivare la chat vocale perché io ce l'ho aperta impostazioni e dove sono opzioni opzioni uguale dove sono però in basso a sinistra guarda lo schermo ok audio 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 scorri in fondo vai giù piano piano ecco chat vocale no perfetto ah io ce l'ho ok ok baba ti è arrivata questa stanza devo entrare te entra e ti trascino io in una che è privata non ti preoccupare eccolo eccolo vai vai dai ciao 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 mi sono arrivati 30 messaggi su twitch aspetta aspetta bra cavolo mi devo trattenere a bestegna perché sono di bestegna faccia sì 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 niente niente stronzati qui eh parolacce va bene però sì sì ma io streamavo sì sì ma lo so aspetta che tolgo la chat di gioco di dove sei te Bologna ah Bologna è bolognese stai a toscano diremo eh noi sì siamo toscani sì sì quindi neanche a provarci che bello sono emozionato è la mia prima partita con un con un mio follower guarda vamos vamo a spaccare dai però ma cosa stai facendo te ma giochi col pad ma sul serio io no no non te il mio amico si chiama Berò chiami pure Nicola Berò chiami come ti pare ok allora per startare devo startare io ah te sei il VIP della situazione decidi te e fai te Berò e questa è la mia terza partita in assoluto è l'ultima volta come fare ah starta tu io facevo queste vinte no no ho fatto sbagliato no vabbè dai facciamo facciamo e vabbè no siamo tre facciamo tre l'ultima volta che ho giocato ero con Alex e il polpo porca puttana guarda ho fatto veramente schifo ma se non ci giochi è normale eh oh ci devi spendere non so quanto ore di gioco all'allenamento ma non so sai le armi basi eh si te le troppo io allora ti faccio faccio una classe al volo che ti do la mia arma ci metto un attimo quindi cos'è esco vai ok no 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 cos'è che dovrei fare quindi io segui lui io sto zitto va bene troppo la mia arma io le ho tutte per quello che si fa i miei va bene facciamo così se abbiamo i soldi diamo tutto a baba almeno ci pensa fa lui per prendere lo da no 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 mettete mettete i soldi davanti allo shop se c'è ok si l'isoletta è la mia patta la mia patta è la mia patta è la mia patta è la mia patta è la mia patta piripipinisi dell'affare non è ancora la partita in alto c'è i secondi tipo perché diciamo è un riscaldamento tra virgolette un po' come un po' come pbg più o meno sì cosa quanto c'è di k di te uno pensavo di sul 2-3 no no io non vabbè io sono all'uno da un paio di settimane piano piano giocando allenamento ma sì ma non conta il kd c'è nè dipende vai dove andiamo vabbè decidi lì perfetto ci sto dove arborra vai c'è uno sopra vai dentro è pieno è pieno lì è occhio cominciamo? l'ho fatto due fatti quello che ho finito io quello là ok mi curo un attimo vai 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 due tre ma non canca no ok ah io c'ho uno sniper qui stiamo uniti stiamo uniti stiamo con lui vieni 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 con lui nei soldi sotto a sinistra non ho visti ok volendo si potrebbe fare adesso si cassa protezioni vado a fare loadout ok è sette cinque se non mi sbaglio vero sette due mogia di mia sentite anche i miei di soldi prendi qualcosa se vuoi vabbè prendi water qualcosa vabbè te lascia di lì c'è le munizioni casa protezioni tieni vecchio tu vuoi un'arma te la do vai prendila Tommy vai grazie che c'hai l'xm4 non conosco le armi quella è buona cosa senta sicuro 100 100 io faccio ca eh bimbi ve lo dico vabbè 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 io sono più per giochi dove spari e respawni e questo per me è uguale sì ma tipo tipo e partite a come cazzo si chiama csv sono sopra qua battetto di bio ecco lì guarda l'uccellino bimbi io vado ti seguo ti seguo ti seguo ti seguo attenti all'attacco grappolo stesse a parte dovevo se poteva uno è fuori uno è fuori uno è fuori uno è fuori fatto? sono altri qui sì lo vissi lo vissi lo vissi lo vissi 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 m***a ho cecchinato pieno nei denti morto qua 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 due dentro due dentro due dentro morto 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 sono nel gulag ora ok ma invece no non c'è il gulag no no non c'è il gulag qui responi a rota oh dov'è lui? ho fatto uno e quell'altro è quasi sta restando morto di nuovo ok aspetta 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 non faccio niente ok bro vado all'oddy 200 ci sono gente qui da me arrivo arrivo morto morto fatto 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 dove siate dove siate non vi vedo dove siate non vi vedo erano due arriva un altro ho sceso col palco vaffanculo è qua è qua è qua è qua sopra accanto a destra dove sono davanti la casetta a destra ah sono due c'è uno che è camperato ma va non ho visto non ho visto io fuori uno in casetta davanti spara 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 no ti fa ti fa ti fa vabbè vabbè niente sto gioco veramente guarda va bene va bene mi piace le mie armi a babbuino ma presto le mie armi sto qua ma quella è un classico è una mappa veramente piccola questa sì io non mi ci diverto ma se no si può anche vedere un'altra quella grossa per me è uguale le facciamo una qui e poi si va di là preferivo Bredasque che Caldera Caldera fa cagare ci vedo un cazzo già poco puoi mettere tutti i filter che vuoi ma ti ti mangiano di gpu già io gioco tutto al minimo perlomeno un attimino però perlomeno al minimo lo vedi ma io gioco 75 fps che scena ok io ne cerco un centinaio ho provato tutti i monitor ma non mi piacciono gli altri sono troppo vividi ho provato il 340 il 240 il 144 ma il 75 è tutta una quanta roba secondo me è un bel po' io ho un 144 si si neanche nelle prove qui riesco a fare una kill ma detto se non ci giochi è inutile ma la connessione ce l'hai buona eh la connessione va bene si quella si e c'ha la fibra ora che vedi l'unica cosa è che devi giocare in mille per dita quanti dpi hai nel mouse che vuol dire la risposta del mouse non ne ho idea sinceramente devi aggiustare anche quella qui c'è un sacco di fattori dove lo vuoi andiamo a 9 si va bene qua tommy sul tetto e vai sotto mi vado sul tetto mi butto giù arrivo vado giù 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 ok arrivo ti seguo arrivo arrivo ti seguo arrivo prendi questa vecchia cos'è la seconda arma e abbiamo lo d'auto vieni sotto sotto qui faccio i soldi arrivo ci sono come faccio a darti i soldi bello ti ho messo un po' a cazzo però prendi questa faccio su io guarda di qua io volendo c'è un attacco bombardamento se vuoi ragazzo ragazzo capisco dove cazzo siete sopra cazzo moon no apri questa tommy vieni qua eeeh a sapere come arriva da voi ti vengono a prendere ah ci sei ci sei eccomi eccomi devi un po' conoscere la mappa a memoria dove sei però sono qui sotto io ora sto andando su con lui posto vieni qua eccomi qua qua a me non resta indietro però eh oh ascolta uno sul tetto si è rotto le gambe era uno qui nella finestra eh non so se è morto si è schiantato schiantato più a sta roba no vabbè ormai colpi scecco si tieni presento davanti a nulla però lontano sale merda un altro niente non l'ho visto non l'ho visto porca traia facciamo questa qui tranquillo però si va di pug o si fa un tre vanguard royal boh te ce l'hai vanguard tommy no no ma mi ricordo lui lo può fare un vanguard anche se non c'è non mi ricordo si ma è più difficile nel senso cioè nel senso vabbè tanto sto giocando così più alla cazzo di cane che altro quindi fai vanguard royal terzetti va bene ok si si può giocare non mi ricordavo sarebbe da giocare ad aloe infinite a me non è che mi spiriti tanto a me divertiva invece era abbastanza semplice ma si starta però oh avevo startato ma non parte aspetta faccio ripartire ma non così tanto a me ma sarà perché forse io sono di livello 1 vedo voi siete all'80 all'81-84 no, c'è questa nuova no, non c'è eh, forfano no partito? no, niente no, ma delle volte o sono io che delle volte, a me mi si bugga non so se che succede anche a te dove è Alessandrino? almeno non c'è giochiamo anche con lui mando un messaggio benci, Giovanni sono su COD siamo in tre moviti guardate, io esco ma adesso io che sono tutto buggo mi visite Tommy che dici? esci? esco dal 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 party se mi fai uscire dal party ok no, infatti sono tutto buggo io non mi fanno capata allora esco, abbandono mi invitate voi sì tranquillo ti vedo sempre però online nel gioco sì, sì ma io sono uscito dal party e basta quindi non ti devo invitare sì perché io vedo Baba ma non vedo te online io non ci sto capendo niente aspetta ok ora ti vedo che sei uscito ok ti ho mandato l'inviso è arrivato? sì siete lost Vanguard Royal Terze esatto ce n'è una dove bisogna invare un reattore nucleare sarebbe molto attuale ma non penso tra i ca guardate ovun ma t'se neue Madonna, come è un party? Che si fa? Allora, come faccio se no metto in un'altra modalità? Mi fa ask. Mi fa abbandona il party, abbandona senza il party. Con, con, con. Oh, oh, oh. Oh, ma... Trovato, trovato, trovato. E' un problema. Ah, e' nata, a me mi si buca il gioco. Sempre a fa casino, però. Ci fosse a fare un gioco di merda. E la gente però lo shoppa ogni anno. Eh, lo so. Un, eccolo qui. Un, eccolo qui. Un, eccolo qui. BESTIA LADRA Chi ha conoscenza approfondita della mappa? Io? Ovviamente io però Ti consiglio di non andare qui? Non andare qui? Non andare qui? Andiamo qua Vai, va bene, siamo retta a lui che sicuramente ci ha giocato più di me Ok Ditemi quando buttarmi Questa mappa del cavolo E la gente comincerà a tirarsi in volo E' il primo buco qua, va bene A me mi stanno già tirando Un team sicuramente c'è, due team sicuri Basta Non è andato qua, non è andato qua No, no Sono tre Fa uno Sì, sì Dove andiamo? Qua D? Ok Qua fa Oh cacchio Mi bisogna di piastere assolutamente che mi han tirato per aria Qui non c'è una beata Puntini puntini Servirebbero delle piastre Io ne ho preso un'ora per il Banz Grazia Dammi, vieni con noi Eccone una Arrivo Veloce Arrivo No, sono a posto ora con le piastre E' un'arma ora che mi servirà E' sopra Qua Non è sopra qua Arrivo E' questo Questo Andiamo di qua Vai Quello non è buono Non è male Lo prendo Vediamo lui Siamo tutti uniti Che culo Fatta te Com'è che si Lanciano le granate Con la Q Mi sembra E la G G Moriordo La G Con la G Allora qua dentro sicuramente c'è gente Si Che caro con vetro Io 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 Ma io per accucciarmi Per accucciarmi Cioè per inginocchiarmi Ma dentro sicuramente c'è gente Qua E non mi ricordo perché io ho sposto tutti i tazzi Ho spostato Prendiamo la taglia su Gente Gente Ma adesso Le parolacce si può sentire No Non puoi Voglio prendere la taglia che c'è sopra Che c'è sopra E' un'altra Avellino al picciolo C'è uno qua Uno qua Uno qua Non è andato Oh e fammi uscire dalla finestra cazzo Dove siete? Sotto Qua qua Uno a terra Ma io non vedo un cazzo Dio Capisco dove cazzo siete Va Vabbè Bella mi verdasc Vaffanculo va Bella mi verdasc Alla 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 Aspetta Stammi in il gulag Vissi Vabbè Vann È poi allo Vabbè Vann E anche tèi bro Nel fattu il gulag No Ci sono sempre Ah Morto No, a me proprio piace sto coso Come cazzo faccio a tornare? Gioca ancora No, ce l'ho fatto lui Ah No, te, chi è il lost, non mi ricordo No, no, io no Tommy, tu devi fare il gioco di nuovo Gioca ancora? Sì Con il party? Devo fare abbandona con il party No, state calmi, eh, perché non conosco sto gioco Vado a caricare la sigaretta, arrivo Ah, è grosso Se non finisco la partita di oggi, insomma, questo qui lo disinstallo subito Dai Però Ti dirò Ti dirò Non mi sta facendo venire voglia di continuare a giocarci A differenza di Call of Duty Quake E anche Halo Infinite Cioè Questa qui è una cosa Che questa roba qua È una roba che ci devi giocare Tanto Sì, sì, posso farla ogni tanto Però nel senso È un gioco che non mi fa Né venire voglia di giocare Né di impegnarmici Quindi Lo posso fare magari ogni tanto Per giocare giusto a qualcosa con voi Però Esatto Ok Sì, beh, fondamentalmente Se non ti piace, non ti piace C'è poco quello qua Però se ci devi giocare Ci devi perdere molto di tempo Cioè nel senso Stavo perdendo più tempo nella mappa A cercare dove eravate voi Perché non vi vedevo proprio più Non vedevo neanche i vostri segnalini Eh, infatti C'è C'è da correre E c'è di stare tutti insieme Cioè Quando ti parli un attimo Siamo avuto Più o meno Forse è bravo bravo Che allora Riesce a giocare anche da solo Ma È tosta, eh Ma mossa è tosta Oh, ma ci si fa qui o no Startup Vedo che ogni tanto Vi ha schermo nero E poi ritorna qui Sì È tutto perché Gioca del fatto con piedi Sì Mi sono ucciso da solo No, non si prende il suo Tutto coso Ok Dove si va? Io sta mappa non la conosco, quindi vado dietro a Baba Quindi? Mainz Vai Ok Ok, 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 ok No, anche se vuoi una o l'altra a sta fucile di fa schifo Ok, non vedo nessuno io Qui c'è un bazooka, eh, comunque Ma c'è un colpo All right Ah, mi sparano Cazzo, un altro colpo è schiatto Oh, ma chi cazzo è? Sono sopra Sono fuori Sono fuori Vabbè, porca puttana, guarda Ho visto una cosa un po' sospetta Io però sto zitto Un cheater? Sai che novità? Non lo so, non sono sicuro Ha totalmente smirato ma ha preso lo stesso Boh, vabbè, sto zitto Sta a me ora nel gulag Davanti, davanti, davanti Tu davanti Gli ho sparato, non vedevo neanche i colpi che andavano a segno Ce l'avevo di fronte, guarda Sto cheater di merda Con la pistoletta In quattro sono zio cane No, raga, mi spiace Cod non è per me Gli ho dato più volte una possibilità Grazie a tutti